La speranza di oggi è che tutti i ragazzi, le centinaia di studenti, di ragazzi delle scuole medie e superiori che parteciperanno, che saranno i discenti di questa scuola di formazione, tutte le centinaia diventino persone interessate alla cosa pubblica, amministratori pubblici, parlamentari, che comunque si interessino alla cosa pubblica. Prima lezione per la scuola di educazione civica promossa dall'Associazione Intratevere Tarno, due quinte del Liceo Scientifico Redi di Arezzo, hanno ascoltato all'interno del Palazzo di Fraternita, nella Sala della Musica, la prima lezione del professor Camillo Brezzi, coaudiuvato da Andrea Biagiotti. Educazione civica, del ricordare la storia, ce n'è sempre bisogno, è importante e allora gli organizzatori, Stefano Tenti, mi ha concesso l'onore di iniziare e iniziamo dalle origini della Repubblica, della Repubblica italiana, cioè il 46, primi 20 anni, fino al 68, un panorama, alternandomi con delle letture di passi dei diari di Pieve Santo Stefano, fatti da Andrea Biagiotti, così da mixare la storia, la ricostruzione storica, con le fonti, le memorie della gente comune, che è utile proprio per ricordare. Proprio al 1948 si dovevano fare le elezioni cofernative, perché del governo c'erano magari che comandavano i comunisti, e quinte il governo di Casperi, a costa della vita, i comunisti si dovevano andare del governo, per forza, mentre che avevano stato i comunisti a fare perdere il fascismo, perché i parteciani erano tutti upirai di masse, tutte comuniste. Io? Io ero nella casetta, e nella casetta tutte quelle che passavano di tutte le partite lasciavano manifeste, e io non li curava, a tutte le partite ci li faceva ammettere. E come finìo tutto? Non ci fu niente. Io mi aveva saputo quartiare, sia con la democrazia cristiana, sia con il socialismo, e magari con il comunesimo. Era di accordo con tutti i partiti, perché alla casetta cantoniera tutti i partiti passavano, e io ci diceva che era con loro. Ed erano tutti restati contenti. Gli incontri sono rivolti agli alunni del triennio delle scuole superiori, agli insegnanti, agli universitari, e a chiunque fosse interessato alla vita politica, sociale ed economica. Grazie alla convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, la scuola lavora anche con docenti universitari e riconoscerà un attestato al raggiungimento delle presenze. Tra l'altro l'educazione civica è stata rinserita quattro anni fa nel curriculum scolastico, per cui chiaramente noi docenti non abbiamo la preparazione per insegnarla come si dovrebbe. Quindi diciamo che questa opportunità aiuta e di supporto alle scuole affinché questa disciplina che ha voto in pagella e concorre pure alla valutazione della maturità possa essere anche arricchita da questa parte esperienziale. Per ampliare il pubblico e la diffusione di questi interessanti e quanto mai necessari momenti di formazione, tutte le lezioni andranno in onda, in esclusiva su Arezzo TV. Perché bisogna studiare, perché l'abbreviazione, il super bignami della cultura che sono i social sono a mio parere molto utili per mille motivi, ma quanto di più deleterio ci sia per voler interessarsi della cosa pubblica. Non è una cosa semplice e la semplicità che viene predicata dai social non è quella che serve per fare gli amministratori della cosa pubblica appunto. L'arrivo è quello di avere decine, centinaia, basterebbero molte unità di giovani o meno giovani che dedicassero, che considerassero la politica, l'amministrazione come un servizio, come dovrebbe essere.